Risolvere una questione che si trascina dal 1969 tra i comuni di San Fratello ed Acquedolci e placare le tensioni istituzionali tra le due amministrazioni locali relative alla cessione di alcuni terreni boschivi, circa 850 ettari. E la motivazione che sta alla base della mozione presentata per iniziativa del deputato regionale Giuseppe Laccoto, primo firmatario, è sottoscritta poi trasversalmente dai deputati Grasso, Galluzzo, De Luca, Zafarana e Amata. Nasce nel 2011 a seguito anche di un decreto regionale che nominava un commissario per regolarizzare le posizioni fra i comuni di Acquedolci che è diventato un nuovo comune e il comune di San Fratello. In quella fase il commissario decretò che sarebbero state date 911 mila euro a compensazione del bosco che veniva ceduto al comune di San Fratello. L'unica cosa è che allora non fu fatto il decreto per regolarizzare questa posizione. Quindi a distanza di anni, di dieci anni circa, ci ritroviamo con un contenzioso fra due comuni che portano praticamente il comune di San Fratello, il comune di Acquedolci a soffrire perché nel frattempo è stato condannato alla somma di un milione. Quindi vi è stata una certa beffa, possiamo dire. Oggi io credo che la mozione come primo firmatario, il sottoscritto, ma hanno aderito altri cinque deputati della provincia di Messina tenda sicuramente a porre l'attenzione del governo regionale su una situazione che è rimasta così non per colpa sicuramente dei comuni ma per colpa della regione. Quindi è un obbligo e un dovere da parte del governo regionale regolizzare questa posizione. Grazie a tutti.